Per favore non dimenticatevi di questo. Oggi Giuseppe protegge la Chiesa. E continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il bambino e la sua madre. Questo aspetto della custodia di Giuseppe è la grande risposta al racconto della Genesi. Quando Dio chiede il conto Caino della vita di Abele, egli risponde, sono forse io il custode del mio fratello? Giuseppe con la sua vita ha sempre volerci dire che siamo chiamati sempre a sentirci custodi dei nostri fratelli, custodi di chi ci è messo accanto, di chi il Signore ci affida attraverso tante circostanze della vita.